eccoli eccoli qua i guerrieri 1900 metri 560 metri di dislivello se e sono ancora vivi e freschi come le rose alla spizzolata agli ultimi seguitori un saluto la fatica è palpabile sul volto degli atleti ma non hanno mollato fino all'ultimo metro ultimo centimetro in questa faticosissima salita uno degli ultimi gruppetti che ha affrontato la salita in maniera lenta ma violenta non avendo paura di fronte alle difficoltà l'emozione e la felicità è palpabile nel cuore di questi giovanotti che raggiungono le italiche vette dal parco dell'Adamello un saluto grandissimo ai chiudifila che si sono prestati a fare il carroscopa a controllare che nessuno si facesse male che nessuno mollasse cedesse ranfrancare il passo di questa ascesa tra i monti e le cime dell'Adamello un saluto. Grazie a tutti.